Sì, sono italiani i nostri, è l'unico italiano che stai. Ecco che rientra, Riccardo Leccese, un applauso per Riccardo, il nostro amico italiano. Riccardo Leccese, un applauso per Riccardo Leccese, un applauso per Riccardo Leccese. Leccez, un applauso per Riccardo Leccese, un applauso per Riccardo Leccese, un applauso per Riccardo Leccese. Il grande dei due kites fuori dai canzoni mondiali, li stiamo aspettando, Erika e Gionni. Il punto di organizzare completano la preparazione delle premiazioni. Non vogliamo potersi insieme a Riccardo e a Legge. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.